salve ben trovati sul giro della morte e per notizie come queste che sono veramente contento di aver avviato questo canale ormai un anno fa e per video come questi che rendono pieni di felicità perché lunghi processi lunghe catene di ipotesi portano alla fine verso quella che sembra essere ormai una certezza manca solo il classico timbro alla amicabile maniera dunque merlin ha comprato magic land e con quali conseguenze ne parliamo dopo la sigla la trattativa sembrava rallentata paurosamente durante tutta la stagione invernale che è appena finita però sono contento di poter finalmente riportare a voi i rumor che si sono susseguiti per tanti mesi naturalmente conosciamo bene merlin proprietaria di gardaland proprietaria di tanti parchi tanti resort e piccole attrazioni sparse nel mondo e non è la prima volta che merlin mostra l'intenzione di creare un resort diffuso all'interno di un unico stato conosciamo naturalmente il caso di alton tower stork park e altri parchi minori in inghilterra con merlin che come un grande padre benevolo li controlla e li gestisce in un unico grande resort in cui tu puoi andare in questo e in quello e scoprirai aspetti differenti della stessa grande attrazione anche in italia abbiamo dei precedenti importantissimi è il caso del tentativo proprio di merlin di acquistare moviland e soprattutto caneva anni fa una trattativa che non era andata a buon fine la trattativa che cercava anche di installare un sea life a moviland questo è un evento veramente poco noto oppure il sea life che era stato in effetti acquistato costruito a jesolo sempre in veneto non vicino a gardaland ma comunque nel tentativo di creare un polo diciamo un po distante ecco qualche punto sparso per il nord italia che potesse essere idealmente collegato all'interno di un'unica firma esisteva anche un parco chiamato gardaland water park a milano non aveva funzionato benissimo forse per la distanza forse perché era un parco acquatico embrionale ma era un progetto che poi nel tempo si è evoluto in un parco acquatico che si trova proprio a gardaland quindi merlin mostra di avere spesso delle idee di resort diffuso che ogni tanto vengono tentate e poi si torna indietro ma poi ci si prova di nuovo e ci ha provato di nuovo infatti ci stiamo avvicinando all'apertura di un altro acquario sea life a roma dovrebbe aprire alla fine di quest'anno secondo i rumors che ci sono stati durante l'inverno il caso di magic land non seguirà l'esempio inglese quindi con diversi parchi tutti distinti e tutti distanti che però in qualche maniera mostrano un legame vago no dovrebbe trattarsi invece in italia di una situazione molto più uniforme e il primo esempio che ce lo farà capire sarà il modo in cui dovrebbe essere gestito magic splash il parco acquatico che è aperto l'anno scorso accanto a magic land e che infatti per quest'anno non ha visto nascere i nuovi scivoli e il fiume lento che erano inizialmente previsti dalla vecchia proprietà infatti per quest'anno il parco acquatico di magic land vedrà semplicemente l'aggiunta di nuove rocce scenografie attorno alla piscina e poco altro qualcosa che ci porterà verso un rebranding che in qualche forma ricorderà il parco acquatico di milano soprattutto nel nome nome che pare sarà proprio gardaland water park e questo mostra la chiara intenzione di usare il nome di un brand che in italia è considerato fortissimo quando si dice è nata la nuova gardaland pugliese oppure è nata la nuova gardaland emiliana cioè gardaland è una parola che significa il parco e visto l'insuccesso l'anno scorso di magic splash è più che comprensibile la volontà di usare questo nome forte che appartiene allo stesso brand il caso di magic land il parco tematico principale vedrà un passaggio molto più lento anche perché magic land stesso ha cambiato nome pochi anni fa prima si chiamava rainbow magic land quindi un cambio di nome immediato personalmente lo ritengo abbastanza improbabile viste anche le notizie che si sono sentite in questo periodo ci saranno comunque delle fasi che porteranno in quella direzione e sicuramente saranno dei tentativi che permetteranno di tastare il terreno in maniera molto molto chiara e i cui risultati saranno leggibili abbastanza presto si parla non di 2024 a questo punto ma di 2025 per il primo passo che dovrebbe essere ecco sono voci ma io ci credo abbastanza dovrebbe essere l'aggiunta di nuovi temi e brand facilmente collegabili a gardaland per creare una connessione anche visiva tra i due parchi la voce che io ritengo più credibile riguarda l'aggiunta dell'area più veloce più semplice da realizzare e dovrebbe essere proprio peppa pig all'interno dei locali della main street la strada principale l'ingresso di magic land dove fino ad allorin dell'anno scorso era ospitata demonia quindi come a gardaland l'area peppa pig sarà proprio in ingresso per mostrare quanto per merlin l'acquisto di questo brand sia fondamentale centrale proprio per il pubblico a cui il parco si rivolge le attrazioni la parte principale dell'area dovrebbe essere sul retro della main street dove ora ci sono i locali di servizio il viale di passaggio dei mezzi quindi trenino di normo pig mongolfiere i classici elementi dell'area di peppa pig saranno dietro in modo da non essere visibili sulla main street ma ci sarà un'area al chiuso i locali di demonia appunto con alcune attività specifiche legate a peppa pig che quindi andranno anche a interferire sulle facciate della main street che quindi cambierà un po il suo tema e avrà da un lato la tematizzazione classica di magic land che abbiamo conosciuto in tutti questi anni e dall'altro qualcosa che contaminerà con il tema di peppa pig sappiamo quanto per magic land sia importante avere una seconda dark ride dopo antique e sappiamo quanto per merlin siano importanti dark ride di qualità l'abbiamo visto a gardaland con le implementazioni dei corsari e con la sistemazione della valle dei re che prima è stata sistemata sotto forma di ramses il risveglio con l'aggiunta anche di elementi interattivi che erano fortemente richiesti da parte del pubblico che ormai era stanco di un'attrazione che aveva più di 20 anni e che ormai stava praticamente defunta e poi con l'aggiunta di jumanji di cui si sentiva la mancanza in italia non ce n'erano altre in tutto lo stivale ecco nel caso di magic land c'è un indiziato principale per l'aggiunta della seconda dark ride ed è il locale dove prima si trovava appunto una dark ride l'ex pianeta wings attuale gattobaleno time machine con i visori che non è adatta alla qualità a cui merlin ci ha abituati e qui voglio leggervi direttamente i rumor naturalmente non dirò mai chi me li ha passati perché le fonti si rispettano comunque al posto di pianeta wings dovrebbe essere installata un percorso horror tra le rovine di una miniera fantasma vittima di contaminazioni aliene secondo l'esempio di alton towers e quindi con una coerenza tematica molto forte con l'area west che circonda questa attrazione vicino ricordiamoci c'è pure wild rodeo aggiunta degli ultimi anni e fa piacere notare come un'attrazione tipicamente merlin può essere inserita in un parco a tema magia per quanto riguarda antique la dark ride principale di magic land i diritti sono in scadenza però da quello che si sente dire si parla di un rinnovo in vista poi di pensieri futuri insomma non tutto può essere fatto nel primo anno di apertura di questo siamo consapevoli per quanto riguarda il planetario invece si sta riflettendo in ottica di riduzione della spesa però su questo aspetto ancora non ci sono stati rumor particolarmente fondati da quello che ho inteso io dovrebbe trattarsi di un progetto su vasta scala che riutilizzi i locali per scopi commerciali aziendali ristorativi però è ancora tutto quanto in discussione non penso che nemmeno loro sappiano ancora che cosa hanno intenzione di fare per quest'anno credo che il planetario comunque lo troveremo ancora attivo per quanto riguarda i coaster sappiamo che magic land non è messa benissimo in questo momento e merlin non si può accontentare di soluzioni tappabuchi sappiamo che nei mesi scorsi la proprietà pillarstone si stava muovendo verso una soluzione all'italiana per il secondo coaster quindi si è parlato di fabbri si è parlato di preston e barbieri ecco c'erano dei rumor che nel corso della scorsa stagione avevano circondato gardaland e riguardavano l'aggiunta di un coaster muck simile a hyperia di torp park 70 metri molto alto molto lungo molto veloce 130 chilometri all'ora naturalmente sapevamo tutti che questi rumor non potevano riferirsi a gardaland proprio perché lì 70 metri non si possono raggiungere a meno che non si costruisca di nascosto di notte in attesa del timbro del comune ma dei rumor così ripetuti e così insistenti quasi mai si rivelano del tutto infondati c'è sempre una mezza verità sotto la mezza verità riguarda proprio magic land mezza anche nella lunghezza perché il pubblico romano non è abituato a coaster lunghi intensi come raptor come oblivion né tantomeno ad hyperia che verrà inaugurata appunto a torp park quindi il nuovo coaster muck di magic land dovrebbe essere una versione un po ridotta rispetto a hyperia non nell'altezza perché l'altezza è importante quando si vuole battere un record pare nella lunghezza dovrebbe essere intorno ai 550 600 metri ma anche questo lo sapremo vivendo nel senso non è possibile sapere tutto prima ancora dell'ufficializzazione certo è però che l'assenza di un secondo coaster pesa molto per magic land ed è la ragione principale per cui in questi anni il parco è andato un po maluccio soprattutto sentendo la concorrenza vicino a città world e del suo altair abbiamo parlato tanto della sistemazione di blu tornado a gardaland abbiamo parlato tanto del coaster che a gardaland verrà installato nel 2026 pur sapendo benissimo che non è possibile espandere gardaland come stavano assieme queste due notizie apparentemente slegate e inestricabili ora abbiamo trovato la chiave di lettura la sistemazione di blu tornado che riguardava in realtà solo le ruote dei treni che sono state cambiate e rese più adatte a un percorso più fluido era una prova per poter poi trasferire blu tornado a magic land e installare a gardaland il nuovo coaster proprio al posto di blu tornado quindi almeno in maniera provvisoria ma secondo me ci rimarrà per un bel po' blu tornado verrà trasferito proprio dove prima si trovava palabaleno sul retro delle horror house haunted hotel e dungeons quindi dando uno skyline implementato al parco e così si presenterà in veste nuova credo a partire dal 2025 a questo punto in attesa di quello che sarà a questo punto il terzo coaster mac tra qualche anno vi vedo un po' perplessi forse questa somma di notizie di novità vi esplode vi esce dalla testa e a volte un po' difficile scoprire così tante cose in una volta sola per calmare gli animi e per convincervi che ciò che vi sto dicendo corrisponde alla verità tengo molto a farvi vedere che recentemente prima che tutte queste notizie uscissero alla ribalta io avevo comprato una serie di azioni delle società che credevo avrebbero potuto acquistare magic land in futuro e guarda un po' sono salite notevolmente e infine l'elefante nella stanza il punto che avevo lasciato sospeso all'inizio di questo discorso merlin vuole creare un resort diffuso e nel momento in cui si fa questo non si può prescindere dal nome il nome del parco purtroppo da questo punto di vista magic land è un parco inquieto ha già cambiato nome diverse volte terra magica rainbow magic land ora magic land si farà un primo tentativo lo dicevo con garda water park per tentare di capire il modo in cui questo nome può essere accettato nell'area di roma ma da quello che io ho inteso è abbastanza chiaro il destino rainbow rimane tuttora il modo in cui quasi tutti chiamano il parco nonostante dal 2019 il suo nome non sia più rainbow magic land a roma è rimasto rainbow e quindi la strada verso cui merlin sta cercando di andare pare essere quella di un rainbow gardaland verso l'unificazione di un'idea tutta italiana di divertimento e dopo roma quale sarà il prossimo passo ce lo possiamo domandare naturalmente ma nel frattempo la domanda principale è cosa pensate di questo grande progetto avete dei suggerimenti da dare a merlin per questo passo così importante che ha compiuto e che dovrà in qualche modo mettere in pratica nel corso dei prossimi mesi dei prossimi anni iscrivetevi al giro della morte naturalmente per seguire passo dopo passo ogni novità che riguarda questo lungo e difficile percorso e noi ci vediamo la prossima settimana grazie per esserci stati oggi e a presto grazie per la prossima settimana grazie per la prossima settimana grazie per la prossima settimana